Faccio una bellissima introduzione io, innanzitutto vorrei che riportasse testualmente quello che io scrivo, fin dove potete, la grande soddisfazione che ho provato personalmente e quindi qui ci metto anche il pensiero del nostro Presidente, è nel aver raggiunto un accordo con un'azienda che è così tanta parte della storia dei Ravennati, perché è l'azienda che rappresenta in casa di Giovanni Mazzini qui, è un'azienda che ha permesso non so quanti milioni di chilometri alle famiglie Ravennati, nell'arco di quanti decenni? Sono 53 anni che siamo figli, quindi... Di 53 anni, cioè se c'è qualcuno che conosce Ravennati, che gli ha permesso di andare a mangiare fuori, a uscire con la loro prima ragazza, a andare a prendere i figli dall'uscita di scuola o andare a laurea del maggiore con insicurezza, con macchine adeguate, che la macchina è di fatto un pezzo della famiglia di ognuno di noi, perché ci viviamo quasi più che in una casa piuttosto che con gli affetti, ecco, avere percepito questa sensibilità ed è stato il primo market che ci ha permesso, la prima azienda che ci ha permesso di garantire ai nostri giocatori stranieri un automezzo, vi dico, per me è stato il segnale proprio di come il basket Ravenna abbia fatto un salto di qualità nella percezione della città e degli imprenditori che in questa città vivono e rappresentano. questa è stata una soddisfazione ancor più del valore economico che per noi rappresentava e della scommessa che per la Ford rappresenta questo tipo di intervento. e si, non sono abituati, e lo dico, devo dare merito anche a Lorenzo Cervo che è la persona che ha costruito il contatto, è stato convincente, ha saputo rappresentare bene la nostra realtà presso questa azienda e veramente, non so come dire, sono quelle cose che uno avverte come un passaggio di età, come una maggiore età, Ravenna ha raggiunto la maggiore età in cui Mazzini ci ha detto, ci hanno usato, poi ci ha guardato un po', non dico con sospetto inizialmente assolutamente no, però diceva, va bene, posso permettermi, mi piacete, va bene quello che rappresentate, vi accompagno per un anno, sarà nostro compito meritarci questo tipo di rapporto di continuità anche nel tempo, però sono molto contento. e poi non ha dato una macchina da poco, ha dato una bellissima macchina che si nota in tutti i modi, guidata come se fosse un gioiello, perché è un gioiello da Manu, Manu deve guidare, bichè fuorstando attento, occhio, va bene, io mi sentivo di dire questo con il cuore, adesso andando un aspetto commerciale, poi Giovanni vorrei che tu raccontassi come invece la vita. Sicuramente Giorgio Bottaro ha dato la fotografia di quello che è successo, ovviamente come dicevo prima con voi nella chiacchierata abbiamo pensato di dare un supporto anche noi a questa che è sicuramente una bellissima storia perché stiamo parlando di un'attività che va supportata e secondo me come imprenditori qualche cosa possono fare. Noi nel nostro piccolo abbiamo questa nuova vettura da presentare e volevamo presentarla anche alla città in maniera un pochettino diversa rispetto alle solite presentazioni, facendo appunto girare un giocatore che comunque allena è un personaggio e sicuramente tutto questo speriamo che sia di reciproco interesse e soddisfazione. Diciamo che è evidente che c'è un interesse anche perché c'è una passione verso il basket e quindi sicuramente questo ha contribuito, dare una mano appunto al basket perché uno ha una passione quindi cerca di fare qualcosa. Hai visto i tuoi occhi? Beh sì sì, uno si diverte quindi dice beh facciamo qualcosa anche noi, uno va alla partita e si diverte quindi dice possibilmente possiamo fare qualcosa anche noi. Sì. Questa è la partita di un'amera, sono tutto quel caldo e la faccio sempre ose. E' la parte della bambina che chiama? Oh, no, no, no. C'è un'amera, ma? Sono davvero freddoi, trovando la macchina anche in realtà, in alcuni alcuni strumenti che i città questi altri e i perlanti in realtà, questa è la mea preferita, ha una maria, ha una buona violenza, mi piace la musica, mi piace cantare e rap, ho un studio nel mio auto, grazie, e il colore e il mio nome è difficile per me non vedermi arrivare, quindi tendono a stoppare e lasciarmi passare, mi piace, mi piace, mi piace, lo dice in italiano, chiaramente è molto felice, dice che è la macchina più bella che ha ricevuto nel corso della sua carriera, non è la prima, però dice che anche l'impianto audio all'interno della sua macchina mi piace, come saprete, mi piace cantare, mi piace fare del rap ogni momento, quasi sempre, e quindi ha come un piccolo studio all'interno della propria macchina, avere il nome sulle fiancate, come vedrete, permette poi di essere riconoscibile, quindi comunque anche questo qualche pro nel corso della sua giornata ce l'ha, ringrazio chiaramente. ti puoi dire che quando lo ferma la polizia, non comincia a fare... non sta, non sta, non sta, esatto, 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 esatto. Eh, confessiamo di aver ricevuto una multa che lui provvederà a pagare, una multa, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte? No, 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 probabilmente, perché vi vedevi che ci siamo riconoscibili. Oh, nemmeno. Anche a giocato Giorgio. Oh, non credo che non mi piace. No, esatto, sì, è passato in via di Roma davanti alla cosa, questa parte qua, non poteva venire da questa parte. Ah, un'altra parte? Me e Michael siamo dicendo, Giorgio? Solo una, vero? Sì, 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 sì. Ok. Avete qualche domanda? No, ok, stop. Ok, bene.